adrian carambola enrico rossi un grande primo set forse quello un po il rimpianto non aver portato a casa dopo essere stati avanti 20 18 anche sì assolutamente il solito match che è talmente tuo che poi quando non lo porti a casa diventa un tsunami nel secondo set principalmente contro una coppia che è informissima sono diventati la numero uno del mondo sono contento che siamo stati in campo principalmente quel primo set più noi erano più noi dall'inizio l'intensità avanti avanti in controllo del match praticamente stavamo facendo quello che le volevamo purtroppo quella palla non l'abbiamo chiusa e questi match sono così rispetto alla prima partita nel primo set si è visto però i veri rossi carambola sì sì sicuramente quando noi giochiamo bene siamo quelli del primo set che infatti mettiamo in difficoltà chiunque anche la numero uno del ranking mondiale e infatti cerchiamo di essere adesso dopo la sconfitta così sicuramente dura però cerchiamo di essere positivi di portare a casa le cose positive che sono sicuramente come abbiamo giocato come è stato in campo il primo set come abbiamo preparato la partita con il nostro staff dall'italia il quale vorrei salutare e andiamo avanti abbiamo un'altra partita sappiamo che se vinciamo abbiamo la possibilità comunque di passare e di continuare sto torneo meraviglioso quindi focus e da domani ricominciamo a lavorare sodo il format del torneo sarà una sorta di spareggio con gli svizzeri per andare avanti sì sì se vinciamo andiamo avanti mi pare lucky loser e alla fine è quello che vogliamo vogliamo passare poi se c'è da fare una partita in più una partita in meno noi non vogliamo non vogliamo mai